Roberto Biffi, una leggenda del Palermo, 321 presenze in Maglia Rosa Nero più di tutti gli altri della storia della squadra. In una serata particolare, quella dedicata al libro che ricorda Renzo Barbera a Milano, che ricordi hai di Palermo e qual è il primo sorriso che ti viene in mente pensando al Palermo? I ricordi sono bellissimi, è normale, ho passato un terzo della mia vita a Palermo e quindi credo che qualcosa la città possa avermi insegnato. La cosa che credo di aver appreso meglio di tutte è stata la lealtà, sotto l'aspetto proprio della persona, anche perché Palermo si può dire tutto, ma che sia una città di parola proprio nel vero senso del termine è approvato, è assodato. E quindi la cosa che mi sento di dire è che mi ha insegnato proprio lo stile di vita e questa è una cosa che mi porto dietro da quando sono andato via da Palermo. E poi è normale che il fatto di essere il giocatore che ha più presenze nel Palermo è un onore, poi oltretutto anche con una maglia con un calore particolare, quindi per me è simbolo, è proprio sintomo di orgoglio. L'allenatore del Palermo attuale che sta cercando di riportare la squadra in Serie A è Beppe Iachini, di cui tu sei stato compagno in una stagione storica a Rosa Nero, anzi in due stagioni, una storica quella del Palermo dei Picciotti. Ti senti di fare un augurio a Beppe se lo senti ancora oggi che ha assunto questo ruolo straordinario perché è stato un ex giocatore del Palermo? La mia vicinanza gliel'ho già fatta sentire tramite un sms all'inizio della sua avventura di quest'anno e fino a questo momento credo che il Palermo stia dimostrando che la strada è quella giusta. È normale che il campionato di Serie B è un campionato duro, molto lungo, quindi credo che fino alla fine ci sarà da lottare, però Beppe è un maestro in questi campionati di Serie B e vinti perché non sarebbe neanche il primo oltretutto. Faranno sicuramente gli scongiuri, però credo che alla fine Beppe e la società riusciranno ad avere la meglio su tutte le altre, quindi vorrò chiaramente festeggiare anche se magari da lontano, chi lo sa, magari anche da vicino questo finale di campionato, sperando chiaramente che sia positivo. Tu hai conosciuto anche un Barbera strapieno e ribollente d'entusiasmo, sei stato il capitano del Palermo per molti anni. In questo momento c'è un calo di entusiasmo a Palermo e lo stadio è semivuoto. Cosa ti senti dire ai tifosi del Palermo per cui sei ancora un'icona ricordato per il tuo attaccamento ai colori? Questo mi risulta strano, nel senso che tutto si può dire della tifoseria rosa-nero, tranne che non stia vicino ai propri beniamini. Probabilmente questo campionato di Serie B dopo tanti anni di Serie A a certi livelli, anche sfiorando risultati incredibili come la qualificazione, mi sembra un paio d'anni fa o tre, alla Champions League, è normale che può sembrare un modo come un altro per snobbare l'impegno di quest'anno. Però credo che tutto sommato il Palermo ha bisogno dei suoi tifosi e numerosi, come credo che i tifosi abbiano bisogno di un Palermo che voli sulle ali dell'entusiasmo creato chiaramente da essi stessi. Un saluto per Rosennero e TRM. Io vi saluto tutti con grande affetto. Spero e spererò sempre un giorno di tornare, non dico a vestire perché ormai non si può più fare, ma far parte di questa società perché veramente da quando sono andato via è una cosa che mi è rimasta nel cuore, è quella di tornare. Purtroppo ancora non si sono incrociati i destini, ma io che sono uno speranzoso, credo che prima o poi alla fine qualcosa succederà. O almeno lasciatemelo credere. Al prossimo episodio Grazie.